Ciao a tutti e benvenuti nel mio angusto laboratorio. Questo è il momento in cui dovrei dirvi di seguirmi sui social, facebook, instagram, bla 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 bla. Sinceramente, fate come volete. A un certo punto sono anche stufo di ripeterlo. Tra un attimo inizia il video, guardatelo, mettete mi piace, mettete non mi piace. Quelle cose lì, insomma. Condividetelo se volete, o fate quel cacchio che vi pare. Ciao ciao. Allora, oggi abbiamo qui questo cadavere di DeWalt, una sperigliatrice DeWalt, 125 mm, 1100 Watt, 4,8 Ampere. Come potete ben vedere, ha visto giorni migliori. La parte dell'ingranaggio dove ho montato il disco, sembra in buono stato, non ha giochi e il motore l'indotto con gli ingranaggi sull'alberino gira correttamente, quindi non è bloccato. Ho provato ad alimentarlo, però non parte, quindi adesso c'è da capire il perché. Dovebbe essere un falso contatto all'interno, comunque, essendo che comunque l'interruttore non sembra funzionare correttamente. Comunque sì, ora lo apriamo e vediamo. Cercare di capire. Qui l'ingranaggio, come dicevo poc'anzi, mi sembra in ottime condizioni e comunque non è sicuramente la causa della mancata partenza, la mancata accensione. Però, comunque sia, è un qualcosa che ci fa capire che potrebbe ancora valerne la pena di ripararlo, perché qui siamo a posto, diciamo. C'è rimasto anche un rimasuglio di protezione, qui abbiamo l'alloggiamento delle spazzole, collegamenti sembrano esserci, però magari li proviamo con il tester per essere sicuri. Allora, tra questo capo e l'altro c'è continuità. E anche qui, quindi i cavi, anche se non ridotti, non sono interrotti. Quindi dobbiamo cercare il problema da qualche altra parte. Potrebbero essere le spazzole che non fanno bene contatto, oppure sono finite, oppure, la peggiore delle ipotesi, potrebbe essere bruciato l'avvolgimento o l'indotto e a quel punto saremo un po' rovinati, nel senso che potrebbe iniziare a non valerne più la pena. Allora, agendo sull'albero e ruotando quel che resta dalla ventolina di raffreddamento, possiamo rimuoverla. Così facendo, possiamo anche sfilare il corpo esterno dall'indotto, per vedere un po' meglio anche lo stato interno del motore. Il cuscinetto non è sballato, l'indotto sembra in buone condizioni, è leggermente impolverato, ma niente di che. Ora guardiamo l'avvolgimento, ma per controllarlo meno bisognerebbe smontare il tutto. Però, momentaneamente, alimentiamoci a verificare l'usura delle spazzole. E poi dovremo anche capire il perché l'interruttore è rotto e come fare a ripararlo. Allora, per quanto riguarda le spazzole, vediamo un po' qui. Qui possiamo discostare la molla, quel tanto che basta, per farci agire la spazzola sul portaspazzole, in modo da verificare lo stato di usura delle stesse. Cerchiamo di essere delicati, perché se si rompe qualcosa, poi potrebbe essere un problema. Rimetto l'opposto. Tirando indietro il portaspazzole, possiamo vedere la spazzola in che stato è. Poi possiamo anche sfilarla. Sembra decisamente consumata. Ora, qui in mezzo alle spazzole che io recupero dagli etrodomestici che smonto, aspirapoveri e affini, ne ho trovate un paio che potrei adattare. Sono esageratamente lunghe, però vabbè, potrei accorciarle. L'unica cosa che vorrei capire, prima di modificarle, e se poi basta quello, la sbagliatrice torna a funzionare. Quindi vorrei smontare qua, per vedere se riesco ad accedere all'interruttore. Cercare di capirne un po' di più sullo stato dello stesso. E dell'interruttore non c'è traccia. Qui c'è rimasto solo il tastino. Anzi, mezzo tastino. Ma non agisce più su niente. Quindi vabbè, non mi resta altro che provare a modificare le spazzole e montarle, e vedere se riesco a farlo ritornare in vita. Ora, vedendo più o meno l'estensione del portaspazzole, da quando tocca sull'indotto al massimo che può tornare indietro, si può vedere che dovrò quantomeno dimezzare queste spazzole, se non anche qualcosa meno. Le sue originali sono queste qui. Direi di inizialmente sagomare, tagliare a circa un po' meno della metà queste spazzole che ho, e poi procediamo. Tagliarlo possiamo tagliarlo tranquillamente con un seghetto a mano. Tanto si tratta praticamente di un materiale molto morbido, per intenderci tipo la mina che si trova dentro le matite. Ora devo limare leggermente perché non entrano nella sede, e in più gli andrebbe fatta anche una tacchettina come queste originali, e queste ovviamente non hanno. Quindi vado alla mola e le sagomo un attimino. Ok, perfetto. Così ci entra, precisa come la sua originale. Adesso c'è da sperare che non sia troppo lunga, ma mi sembra che possa anche andare come lunghezza. Vediamo di metterci la molla. Ok. Ora inserisco anche l'altra. Ok, ora ho inserito le spazzole. Momentaneamente ci ho ricollegato il morsettino di quelle vecchie con le stesse spazzole vecchie. Ho semplicemente collegato i fini così per provare, perché se non dovesse funzionare, ovviamente non mi metto a saldare per bene i collegamenti, se poi il tutto non funziona. Quindi l'ho collegato e ai cavi di alimentazione ci ho messo questo cavo con un interruttore, interruttore on-off esterno, per vedere se la sostituzione ha avuto qualche effetto. Ora la teniamo ben salda sul banco, perché se per sbaglio dovesse funzionare è anche bella potente, quindi correremo anche il rischio che, non so, rotoli o ci spari anche in faccia e non sarebbe bello. Quindi dicevo, la teniamo ben salda sul banco e poi facciamo partire. E' bene sempre di fermare subito, in questo caso, per controllare la situazione, perché potrebbe magari essersi spostato qualche cosa se non abbiamo montato bene qualcosa e quindi essere pericoloso. In questo caso però abbiamo visto che la smerigliatrice è partita, quindi è sicuramente un buon segno. Provo a evitare di provocare danni, controlliamo le spazzole che siano ancora in sede e che non ci sia spostato niente. Perfetto direi. Come vi avevo detto ha uno spunto in partenza che è una cosa impressionante, infatti in 1100 watt si sentono tutti. Quindi come abbiamo visto, senza spendere praticamente niente anche questa volta, grazie a delle spazzole riciclate da altri elettrodomestici, siamo riusciti a riportare in vita una signora smerigliatrice. Ora non dovrò fare altro che recuperare una copertura qua dietro e fare in modo di applicargli un interruttore. Ed il gioco è praticamente fatto. La nostra TheWalt sarà di nuovo pronta per anni e anni di duro lavoro. Adesso sono con la smerigliatrice a pezzi perché mi resta da risolvere il problema dell'interruttore. L'ho appena provato a smontare e l'unica cosa che è rimasta sono questi, questo rotto e questo rotto. Purtroppo i ricambi che ho per smerigliatrici angolari comprendono anche gli interruttori ma sono un sistema diverso. La TheWalt fa un sistema diverso rispetto a Bosch e altri marchi quindi momentaneamente non posso risolvere questo problema. Posso però bypassarlo inserendo un interruttore 0.1 e faccio questo solo esclusivamente perché ho deciso di andare a montare questa smerigliatrice sul mio supporto per fare taglie a 90 gradi. Quindi resterà fissa e allora posso andare tranquillamente a accendere e spegnere. Ovviamente su una smerigliatrice da usare manualmente non è sicura questa cosa quindi sconsiglio assolutamente di farlo. Qui ora io ho fatto passare praticamente i cavi per far sì di riuscire a portare l'interruttore fino al posto originario. Al posto di questa linguetta di plastica che andava ad azionare fisicamente l'interruttore posto qua dietro. Ho fatto passare i cavi e andrò ad azionarlo in questo posto e i cavi porteranno e prenderanno la corrente in questo modo. Vado a rimontare parzialmente per controllare che i collegamenti siano fatti bene e dopodiché andrò a farli in modo definitivo. Come coperchio posteriore ovviamente il suo non c'era quindi ne ho recuperato uno abbastanza somigliante con la differenza che la DeWalt ha la ventola sul posteriore. Quindi il cavo come passa tradizionalmente in quasi tutte le smerigliatrici non può passare sul posteriore per ovvi motivi quindi dovrà passare sul lato. E per questo ora andrò ad eseguire un foro appunto per permettergli di passare. Ed ecco qua ovviamente ho montato un disco sovradimensionato e senza paralama ma solo perché andrò a montarlo adesso al supporto per smerigliatrici. Anche questo video è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un mi piace, la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi. Se volete potete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram. Grazie a tutti.